Trattamenti curio-tontoiatriche a 360 gradi, tutte le branche odontoiatriche. Curio-tontoiatriche, quindi clinico-tontoiatriche in tutta Italia e per proporre tutti i trattamenti ai nostri pazienti nel miglior modo possibile, al miglior prezzo possibile. Il nostro titolare, il dottor Simone Giacomoni, è un partito del calcio e come primo centro nell'Abruzzo ha voluto scegliere appunto il Pascara Calcio, proprio perché essendo tifoso, ha anche tifoso del Pascara Calcio. Grazie.